Salve ragazzi qui è Delta28 e siamo sempre su Jurassic Park Operation Genesis siamo all'ultima partita, volevo fare lo zoo safari si ho usato, ho preso i cosi per ho già installato le macchine sono ancora all'inizio, ho messo ben 3 ingressi con gli elicotteri così sono tranquillo però ho visto una cosa che non mi è piaciuta, a parte che mo finalmente qua ho finito mi sebbe assolutamente il booker si perchè ho scoperto una cosa che non mi è piaciuta non mi piace qua mi danneggeranno tantissimo estrarie però qua finisco male a parte i miei dinosauri che abbiamo tutti i torosauri qua calma mi siete incazzatea da soli mi siete incazzatea allora intanto voglio mettere nel frattempo no frattempo un cacchio fra poco arriva questo cacchio di uracano quando arriverà non lo so ma spero che riesco a ospitar, non so 35 che posso riuscire a ospitare a tutta la gente sell, ottimo, sell bene eh wanted aspettate si subito voglio far scappare tutti quanti vedete tutti quanti devono scappare e rientrare assolutamente dentro l'unica cosa che c'è da proteggersi ecco l'ora, la tempesta eccola vedete muovetevi meno mai che nessuno non ho messo macchine che voglio gill c'è una rottura di scappare scendi e corri subito a proteggerti qui dentro immediatamente che sta per arrivare un temporale eccola ecco l'ora bene mi ha devastato praticamente il muro spero che non non mi piglia i torosa che cazzo no oh no mi ha preso il torosauro ok mi ha ucciso il torosauro quello mi è pure mi sta male non posso neanche usare no no ti prego passi in mezzo non mi distruggere no no quelli la che lavorano come polizie ahahah 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 no ma thai gil si è salvato no non si è salvato ahahah riparare subito e che cazzo madonna quanto è enorme omen finito bene ripariamo ah ah giusto togliamola là ah mi hanno danneggiato mi ha danneggiato un po' di cose mi hanno danneggiato un po' di cose mi hanno danneggiato mi hanno danneggiato un po' di cose mi ha buttato via un torosoro poveroccio ah devo chiudere qua e ricinso bene bene finalmente avete visto come funziona che succede quando vengono danneggiati sti cose e come vengono danneggiati beh finalmente dopo un sacco di tempo e mi ha scassato pure questo mi ha come ecco cosa succede quando arriva un uragano ragazzi per la prima volta avete visto finalmente un uragano ah ma ah ma ragazzi vedete che c'è la canna di cose è finito eh ah se sono tornati proprio a casa e si perché giustamente io non ho i bunker giusto e beh questi sono proprio scappati proprio e lo so li ho fatti scappare tutti a casa beh grazie almeno ho mostrato un osso un fossile e intanto ho i pigmoni per fammi vedere in che condizioni eccoli qua vedete sono arrivati tutti da qua sono arrivati questi mi sono morti perchè in serio eh però li ho salvati tutti li ho salvati tutti mi fa piacere meno male mi fa veramente sono soddisfatto dai però devo continuare ecco vedete il bunker sta per essere fatto finalmente eh si dovevo riparare quello non l'avevo riparato eh già riparato che cacchio vuol dire si per i dinosauri con calma e adesso non è cosa fammi vedere quello che volevo fare per la eccolo qua guardate cosa faccio adesso metto metto uno guardate il bunker dove lo posso mettere no non lo posso mettere neanche troppo lontano quindi lo metto qua cinque madonna quanto costa ehm prossimo sempre sempre qua e lo metto un posto dove possiamo vedere quando mangiano per esempio qua vicino all'alo e infine l'ultimo se posso se me lo permetti no non me lo permette voglio mettere questo se no qua non passano uno quanto costa? è 30 beh si ci sta no 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 oh calmati vedete entry e posso fare questo view eccolo qui vedete cambio direzione mi è morto il il torosauro lì in zona qui non c'è ecco qua vedete qua appartenente vedo tutti i dinosauri sono nascosti insomma eh si devo rianimarli e sono quasi tutti morti di infarto a quanto pare uno è proprio e un altro è morto pure oh ma che è tutti morti qua eh sono ben due torosauro che sono morti e non può starci nulla oh bene posso sbloccare un altro è perfetto e posso scegliere un'altra posizione lo metto più qui non posso andare oltre ecco qua bene ho fatto quello che dovevo fare metto un po' più acqua perché non c'è niente e ora devo fare il percorso voglio attivare il percorso ma perchè non me lo fa ah sta piovendo mannaccia la pioggia fammi vedere che condizioni siamo ah finalmente ah ah non posso neanche perchè non ho abbastanza soldi che padre vediamo qui che cosa si mi è morto mi è morto lo so go fa chi c'è pharosaurus e questo cos'è non lo so neanche parasaurus vabbè il nostro amico bene ma posso potenziare quello che volevo un po' di tutto quello che vuole però devo potenziare cosa ecco 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 con il man tempo quelli non vanno giustamente kanako una si chiama kanako eh si Larry intanto posso finalmente attivare intanto posso finalmente attivare senza esagerare senza esagerare se no un po' di sei un po' di 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 si lo devo rifare vediamo che non è venuto bene intanto posso attivare questi se no eh open 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 ovviamente open welcome open 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 o ecco vedete i nostri percorsi intanto guardate ecco come funziona e' danneggiato aspetta perchè è danneggiato perchè sono danneggiato vedi questo non dimmi che è danneggiato sto coso strano non ho no e forse qualcuno l'ha colpito un toro un toro sago un toro certo quello è un toro giusto intanto l'ha curato vedete che bello quando vedi ste cose così no ma comunque devo capire il modello e' ritornato in base no guardate qua no almeno mi diverte perchè vedo no dove passare la macchina eccola qua vedete c'è la gente vede vedi e' scassata quella e' scassata ma io spero che mo che ritorna in base che mo che ritorna in base cambia modello perchè ma miseria c'è danneggiata ma questa e' stata colpita da qualcosa o da qualcuno e' leggermente storta eh pure il figlio mi fa vedere effettivamente tutto il passaggio secondo me un toro sauro l'ha colpito perchè non ci sono spiegazioni infatti non era danneggiato prima oddio guarda c'era avevi visto il mosques della gamba del toro sauro praticamente e' vedi questo suona no? per allontanarli quindi vuol dire che qualcuno l'ha attaccato per forza vabbè detto questo intanto big money sto avendo go devo adesso basta con non posso ignorare la cosa devo a parte che tutti mi stanno per il figlio e poi more cioè questo lo stavo guardando molto male del tipo tu mi... io ti ammazzo guarda come insiste vuole suonare contro un tricera un toro sauro eh non ti conviene ma quanta vedi mi da tutti voi un anno cioè questi mi moriranno tutti e per sicurezza li devo riprodurre insomma dai metto l'oro e costano però devo aspettare che... ok mi moriranno a breve quindi li devo mettere per forza l'oro qua 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 tre vabbè già è tanto 3 vedete il percorso modo c'è chi va più lontano chi più vicino capito e però intanto fanno un bel percorso si fanno intanto vediamo un poco qua come siamo messi si si e là con il cibo ok menuti eh ok ehm gratis ma la gente non va qui eh si ecco così passano da qua passano hm ah ma io devo costruire i bunker in tutto ciò saprò che non so dimenticare intanto questo sta per finire ottimo finalmente mi serve e mi servebbe anche quei super esterni no mo basta mo continuiamo coi pacini servono i pacini ragazzi quindi mi dispiace mi servono i pacini ho fatto anzi no ho detto una cavola devo fare una cosa qui purtroppo se no la gente poi dice eh ma tu non pensi a noi vaffanculo mo ci penso io deficienti disegraziate che non siete ancora allora l'unica cosa che i predatori io li vorrò pure mettere però li metterò giusto uno o due nella safari così gli erbivori sono tanti e i predatori sono pochi così magari se necessario ci sono dei conflitti fra erbivori e carnivori almeno le macchine non rischino di essere distrutte o danneggiate come effettivamente avete visto quindi un motivo in più per farvi capire che non metterò predatori dentro il safari proprio adesso non è cosa edmontosaurus babba cioè io sto mettendo ma tutti i c'è dna qua i tolosauri stanno per morire eh infatti già mi sono morti dai questo lo puro dai dai questo lo puro dai e poi per la cronaca ne volevo mettere uno in più e così sono sempre in quattro dai in burpuncare sono tre uno due tre però ne potrei mettere una però se vedete tutto lo spazio qua di erbivori è vuoto quindi credo che prima o poi sposterò le macchine cioè un ingresso va qua un altro va qua così ognuno gira per il modo di suo ma anche già così va bene a dire il vero perché almeno vanno e guardo hanno un'ottima vasta prospettive poi le macchine non si scontrano quindi questa è una cosa molto seria infatti se avete visto quando io ho fatto il il loro percorso se avete notato sono comunque sempre verso sinistra poi per fare tutto il giro verso destra perché questo? perché se faceva il contrario proprio c'è una probabilità sicuramente molto alta che si sarei scontrate le macchine ecco perchè ok almeno sono messo bene mi devo credo che dovrò comprensione prima di fare tutto questo e di cominciare ho venduto molti pezzi di dinosauri anche di un trigerato un po' bello team c'è team qua peccato che non lo vedi però c'è team qua dentro dai sono contento almeno uno finalmente qualcuno che usa questi arnesi team e basta solo team l'ha visto madonna eccolo qua vedete com'è bello se c'è questi guarda dalla prospettiva vedo dei dinosauri giganti e loro non vedono ho capito magari sento la loro presenza ecco e si stanno guardando del tipo si scontrano wow bellissimo questa è la prospettiva di scontro dai vediamo no 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 tutto contento fiero dovrebbe piangere però tutto ciò ops e' uno e' malato si devo sempre fare così eccolo qua aspetta spiegami tu che ca e' stata distrutto no i vecchi sono stati distrutti aspettate fermi tutti aspettate ehm vedete ecco come oh oddio che cosa figa è la prima volta che mi succede è la prima volta che mi succede una cosa del genere oddio che cosa figa cosa ho appena scoperto ragazzi eh però avete visto l'auto è stata distrutta però vedete che cosa succede qui si cioè non è facile questi si sfruggono anche l'auto se necessario qua si urgent e Sì, 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 Sì. Sì, Sì, Sì. Sì, 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 Sì. Sì, 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 Sì. Sì, 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 Sì. Sì, 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 Sì. Sì, 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 Sì. Sì, 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 Sì. Sì, 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 Sì. Sì, 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 Sì. Sì, 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 Sì. Vabbè gli altri sono tranquilli Cioè gli unci che giro sono loro Tranquilli tranquilli Il parco qui Ne ho messi tre ingressi Vediamo un po' che condizioni siamo qua Ha finito Ottimo Mi servirebbe però voglio mettere qualche batteria In questo caso questo Tanto sono leggermente a posto Qui aumentiamo di uno in più Come anche No Ah questi proprio non ci sono proprio A posto Vediamo in che condizioni sono I nostri amati dinosauri Il pachi Sta al 55 quindi 6 mesi Non voglio Metterlo per il momento 96 Per poco farà Lo sto per completare A Elvis e gli mettiamo 5 di su 5 proprio sparati Boh mi muoiono Mi muoiono sti cosi qua Sti Sti baccalà Ah uno mi è morto proprio Eh si perchè giustamente Mo' iniziano a morire La maggior parte Mi muoiono 1 2 3 4 5 6 7 In teoria 8 perchè 4 Devo morire in teoria Ecco perchè La zona dei torosauri E' pericolosissima A parte che è bellissimo Vedere Mai disturbare Il can che dorme Questo sta mangiando Del tipo Cosa cazzo vuoi E se ne va Cioè la gente può mettersi a guardare Pure quello che fanno Gli altri In lontananza 1 2 E' bello E' bello Guarda quanti ne sono No E' troppo bello Questo gioco E' stupendo Lo ripeto Bello Oltre di dinosauri E' anche una questione Che fa vedere Vedi questo è l'unico Che è gratis Io ho testo a pagamento Perchè sono quelli là Un po' più pesanti E costosi Vedete Eh ma ci sta pure Ovvio E' una questione Di business Comunque Ah fammi vedere qua Intanto Go Sell Assolutamente Sell E cos'è questo? Acrocantosauro Vedate Lo sblocco Intanto vado qui Vedo un po' Se posso sbloccare qua qualcosa Estrai E il torosauro pure Estrai Però voglio il torosauro Anche edmontosauro mi servirebbe Però eh Quindi estrai anche lui E mettiamo Estrai 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 Così vi faccio Ovviamente Parata Come si chiama Elvis Vedete qua c'è stato uno E te ne vai Poi arriverà un altro qua Che era un altro qui E cose varie Che poi è figo Comunque Lo dai Ho sistemato bene Io ho avuto un ictus Questi gli vengono degli ictus Non ho mai capito il perché Ma credo per via del DNA Che è incompleto Perché Questi Ma No non ci credo Sono sotto Vedete Sono in rosso Vabbè Ma non ci metto niente Ad arrivare A Come dire A ritornare come prima Tranquillo Ce la faccio Ce la faccio Questa che arriva un po' di gente In quale dei tre arriverà Io scommetto in questo Arriverà l'elicottero In questo Scusate In quello centrale Insomma E hop No In quell'altro In fondo Vabbè Dai È qualcosa È qualcosa E abbiamo già Guadagnato abbastanza Sì Perché io ho fatto comunque 500 500 Così sono E appare insomma Oh però comunque Si sono presi Madonna Si sono presi Le loro Cioè Chi si affaccia Vedo un triceratomo Eppure malato Cioè Ma mica la terra così Ma dai Un po' erano Coriamolo Intanto Questa è circondata Chi entra qui Si cagherebbe leggermente sotto Vediamo quando lo curano Vedete Ariato l'elicottero Dal seno elicottero Del ranker Lo fa uno sparo E lo rianimo Eccolo Rianimo Che poi Che poi questi sono i mesi Mese 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 Compagnia bella Detto questo Questo è il parco E questo è tutto Con cui mi sto concentrando Il parco Guardate Per quale motivo Qua è il verde Ah ecco Perché Giusto Invece il legio Intanto Fatemi vedere un po' Smetto di mettere Io Ah ok Questi sono i Vedete Factorio Vabbè Qualcosa per creare Cosa Vedete il percorso Come è divertente Praticamente Uno fa qua Tutti si fanno qua In zona Ah ecco Quei il terosauro Ma per poco Non lo danneggiavo Perché lo stavo Correndo Lo stavo Correndo Lo stavo Inseguendo I terosauro No La macchia si è fermata qua Spero che non lo danneggiano Non l'hanno danneggiato A meno male Questi terosauro Sono leggermente pericolosi Hanno un comportamento Un po' cruento Lo ho Ok Scherzi a parte Vediamo qui Oro Grazie Sì perché adesso Voglio fare una cosa bella Cazzo Cazzo Qua ce la posso fare Di pochissimo Quattro Mi mancava pochissimo Proprio Eh sì perché Devi contare anche I due cene Vabbè Piccoli dettagli futili Però intanto Mo posso avere Cinque di questi Sì perché voglio mettere Un quinto Così questi Girano Qua in zona E sono anche Uno Due Tre Quattro Eh a volte Mi scatta Devo stare attento Uno Due Tre Quattro Cinque Se Eh però sono in sei Non è normale Perché Non è normale Perché Dici mesi Tre mesi Vedi Ah perché giustamente Modificano comunque Ora il dna Ecco Comunque Loro si stanno ricreando Ecco Lo coi Il nostro nuovo Elvis Elvis Che mo si aggregherà Il gruppo e vanno tutti in zona Queste finire in acqua E si è rimasto bloccato Questa cosa Il torosauro non mi piace E quello suona capito Quello è il rischio Eh il torosauro vuole stare nelle difese Però Ho visto una cosa bruttissima Guardate Il torosauro sono un po' pericolo E hai leggermente passato attraverso Non per qualcosa Non voglio dire Ma hai passato attraverso E questi mo si smettano a girare intorno Ma cosa state facendo? Comunque Erano 4 E altri 4 Ho fatto Come mai Si è passati a 6 Cioè Dovebbero essere 8 Però con 4 Dovebbero morire In teoria Però Si sono estesi Le loro direzioni Da qua Tutti in zona E ora si sono spostati Tutti lì qua Eh si Vedete come in branco Si muovono Si muovono in branco Si spostano tutti in branco Vedete com'è bello Come uno stormo di uccelli A volte poi Attraversano Le macchine No Non l'ho fatto vedere Che sta uno combattendo Comunque Dai Sta venendo bene Continuiamo così Siamo già 2 stelle Non mi lamento Go Non posso fare nulla Posso fare questo Estradio i pachi Go Ah posso sbloccare Ovviamente No Voglio sbloccare Cosa avevo deciso di sbloccare Si perché me lo sono segnalato Ah ok Devo segnalare Si me lo sono segnalato Perché voglio fare Tutta una cosa carina Quindi T-rex Si la zona del T-rex Detto Eh si Scusate Qua ho finito pure La ricerca Su che cosa voglio fare Adesso Su la ricerca Questa Così sono a posto E salviamo È passato un po' di tempo E siamo a 2 stelle Ragazzi Ahia Mi so attuare Questi che si mettono a guardare Il panorama Cioè voi vedete il panorama Ma voi potete benissimo Entrare là e vedere I parafausos Anche questi I Elvis Stanno tutti insieme Vedete perché mo si dividono Mo quello è da solo Però si aggregeranno E' buio Mo inizia in brutto tempo E' solo brutto tempo Ok Brutto tempo contemporane E' pesante Eh a volte fanno I nervosi gli animali Leggermente fanno Fa terrorizzare gli animali Le animali è proprio di pochi Gli fanno Perché si è bloccato Non si muove più Dai lo guido io Otti io posso Potevo guidare Guardate io Che figo Eh forse era meglio Ho fatto bene Sì che l'ho portato in base A cosa Si era bloccato Cazzo non lo sapevo Sì stai Come si ha aspettato No e allora guido io Va bellissimo Mo io rompere chi in poi coglioni Eh nois Bellissimo Bellissimo Così funziona Sembra lasciati Jurassic Park Sembra lasciati Jurassic Park 2 Bellissimo Mi viene da tosso Mi viene da tosso Mi viene da tosso Però non capisco il perché Faccio così A questo ti ritorna indietro Sembata comunque la cena di Jurassic Park Sappiate Tu ritorna in base Che io devo portare un altro Via perché si è bloccato Vedete Questo qua si è bloccato Dai torniamoci nel Meditante via Questi sono comunque clienti Ospiti No Cioè mi devo mettere A fare queste cose Via Tristezze Ok questo non è della porta Di questo qua Che bello Quindi di qua Ah era di questo Dolly Vabbè io che ne so Dai Entra Adesso i paracosi Stanno tutti mischiati qua Perfetto Uffa ma stai sempre Hai qualche problema Tu guarda Vedete Questo è rosso Quindi non capisco se No scusa che non parla Che voglio vedere Cosa sta succedendo Perché Ora mi ero concentrato A guidare Quindi Go Ok Eh sì Io ho aperto pure un coso Però devo Comprare Dei nuovi Cosi Qui E Vai Zoom E Esplora E procreate Alla Ok No perché c'è la rabbia Ma la rabbia Non mi è mai successo Di avere problemi Con la questione di rabbia Ok Non c'è nulla Qui di interessante Neanche qua Ok Loll E vabbè però Voi non potete Suonare ogni volta È un problema Quelli poi Si incazzano Sapete come Meno male Che non so T-Rex T-Rex O Dinosauri Feroci Ah però Intanto la gente si sciala Oh te Meno male Almeno questo Mi fate faticare E sudare Ed un montosauro Devo sbloccarlo Bene ragazzi Beh avete visto un po' Questo mi è morto davanti È elegante Diciamo sì però no Ecco qua Qua si si rivede un po' più dinosauri Ah è bello però Ah è bello però Ah bene dai Credo che Per il momento Può bastare così Sì Credo che può bastare così Continuerò il gioco Però Ve lo rifarò Vedere con calma Con Parte con più soldi Ma con più dinosauri Questa più divertente Stare appresso A questa partita Così No Quindi vi lascio Di clean Di clean Di clean Ok Perfetto Detto questo Salviamo Siamo messi bene Qui vi saluto Qui delta 28 Passo E chiude Siamo messi bene